Presidente Venni, senz'altro un momento importante quello di oggi anche se non siamo su un campo di pallavolo però riscontrare la vicinanza degli sponsor, riscontrare la vicinanza del territorio nei confronti della vostra realtà è sicuramente un buon punto di partenza. Sì, senz'altro questa giornata, questa fine di giornata del 5 di settembre è una grande giornata. Ringraziamo in primis la Banca Alpi Marittime che è il nostro main sponsor con l'Acqua San Bernardo che peraltro era già nello scorso anno, in questa magnifica location che siamo qua vicino al castello di Carrù dove c'è la sede proprio della banca, di questa banca diciamo pure dinamica eccetera e quindi siamo orgogliosi e a questo punto si può finalmente, ufficialmente, svelare il nome del main sponsor che tanti chiedevano in giro eccetera e quindi abbiamo dovuto aspettare la presentazione ufficiale. Detto questo mi soffermo un attimino sulla squadra, ormai sono già due settimane circa che hanno iniziato gli allenamenti c'è un buon spirito di squadra, c'è una collaborazione tra la squadra, il team, la società, tutti e a questo punto vi aspettiamo, faccio un appello per aspettare tutti i tifosi che per anni hanno magari desiderato ritornare al palazzetto, vedere lo sport di un certo livello, il nostro sport, la pallavolo a un certo livello e quest'anno facendo anche uno sforzo di tutta la società e quindi anche con degli sponsor abbiamo cercato di portare a Cuneo per ritornare, non dico magari i fasti col tempo, magari anche quello di una volta, ma soddisfare quella voglia di sport del palavolo che i cunesi hanno sempre avuto e quindi è come dire il fuoco covava sotto le ceneri in tutti questi anni quindi io faccio ancora un invito e un'esortazione a tutti gli amanti della pallavolo di se possibilmente di anche acquisire i nostri abbonamenti che sono dei prezzi accessibili sono dei prezzi abbastanza popolari diciamo e quindi anche chi non avrà l'abbonamento venga magari qualche volta a vedere le partite al palazzetto in modo che possa appassionarsi alle vicende della squadra e riempire questo palazzetto e dare con il calore del pubblico quella verve in più, quella spinta in più che noi ci attendiamo dalla squadra e che per il momento promette molto bene.